Musica Musica Ragazze e ragazzi Rieccoci qua su Persona 5 Strikers Continuiamo a dove ci eravamo lasciati L'episodio scorso abbiamo Battuto tutte le ombre Nefaste disponibili Finora poi vedremo Nella prossima prigione intanto Insomma abbiamo livellato Adesso dobbiamo continuare Con la trama principale ma prima di fare ciò Avevo una richiesta Che però mi sa che devo accettare Ah posso farlo anche dal menu Ok accettiamo sta richiesta Dobbiamo Parlare con Haru e Futaba Haru è qua in fondo Ok Eh puoi avere la prima occasione Mi farò un attimo il giro dei negozi Vedo se scompare qualcosa per gli SP Perché abbiamo finito tutto Pur disconfiggere quelle ombre Eh vuoi che insegni a Zenkichi San a cucinare? Ne sarei felice ma sto ancora cercando di migliorare la mia tecnica Beh hai buon occhio per la qualità degli ingredienti Conosci l'argomento molto meglio di lui Sono già due punti a favore Zenkichi deve imparare a cucinare con amore Solo così potrà afforzare il suo legame con Akane Tu sei molto brava in queste cose Sei perfetta Oh è molto carino da parte tua Grazie monnacian Beh se posso essere d'aiuto sarà un onore dare una mano Grazie mille Oh non c'è bisogno di ringraziarmi In fondo abbiamo un debito di riconoscenza con Zenkichi E poi per me sarà un'esperienza istruttiva Allora quale potrebbe essere l'argomento della prima lezione? Che ne dici della cucina Obanzai? È uno stile culinario tipico di Kyoto Prevede l'uso di pesce e ortaggi a chilometro zero Non è troppo elaborato insomma Oh sembra perfetto E anche molto salutare per Akane Ok che ne dici se andiamo a comprare tutto quello che ti serve Mentre ti prepari per la lezione Mi metto subito al lavoro Sa anche la mia prima volta dietro la cattedra Ma c'è comunque in gioco la mia reputazione E industria alimentare Ti inverò una richiesta insieme alla lista della spesa Ecco la richiesta della richiesta Beh Eh Eh A vedere Ingredienti o Banzai Beh Me ne manca uno Tofu Accetta Intanto E quindi niente Devo fare un attimo il giro Aspetto A cercare il tofu Eh Facciamo una Ok qui niente E in più Devo parlare con Futaba Possiamo fare così Futaba eh No facciamo Facciamo qui Aspetta Forse però Ah ecco Meglio di qua Facciamo prima No Attenzione Non invadiamo La zona Della missione principale Magari potete farvi Della navigatrice Parlando come la gente di qui No Questo avevo già detto Ma Boh Vabbè No niente Soddisfiamo L'ho già accettata No Si l'ho accettata Ok Si l'ho accettata Devo trovare il tofu Vediamo No qui non c'è Però già che ci sono Ok Compro Qua c'è il cioccolato Il cioccolato Il gelato Qua c'è niente Che mi interessi Cioè Una cosa si Però Ma Andiamo Andiamo qua Supermercato locale Il granchio 2000 Ma Oppure Ai soldi Li abbiamo praticamente Rifatti Grazie agli scontri Qua Aspetta Qua niente Prendo solo questo No ma comunque Gli oggetti Per la vita Un po' Ce li abbiamo Che altro sono Gli SP Ok Eh magari Magari devo vedere Il negozio di Sofia Può essere Qua c'è niente Qua niente Ah questo Lo compro Fu un invitante Magari mi fermo qui Ordino qualcosa Oh ci sei anche tu Leo Vedo se non sono la sola Ad avere un certo appetito Stavo per rinunciarci però Non credo di riuscire A mangiare una porzione intera Se te va bene Che inizi di dividere Con me Okonomiyaki Con maiale e formaggio Così avremo entrambi La giusta quantità Mi sono goduto Lo okonomiyaki Insieme a Makoto Mi sento ispirato Dammi qua Va bene Ristorante Qua non c'è Niente Se no torno A niente Dammi qua Ok Torno al camper Vediamo se c'è la Sofia Il tofu Vediamo Negozio L'avevo già venduto Fa vedere Eh no Vendiamo Ok Acquista Oggetti Eccolo qua Ok Vedi richieste Ok Fai rapporto Grazie per aver recuperato gli ingredienti Direi che siamo pronti per la lezione Oh sai che ti dico Perché non provi anche tu Per preparare qualche piatto Banzai Insieme a Zenkichi-san Così potrai cucinarli Ogni volta che vorrai Poi in ogni caso Dovessi sbagliare qualcosa Potresti darmi una mano Allora che ne dici Può contare su di me Ragazzi mi sento già più tranquilla Sapendo che ci sarai anche tu Non preoccuparti Aro Ci sarò anch'io al tuo fianco Ragazzi Bonaccia Non vedo l'ora della nostra prima lezione di cucina Ecco la ricetta sulla quale lavoreremo Grandioso Per quanto riguarda Aro Siamo a posto Prossimo obiettivo Far salire a bordo Futaba Ah ecco Ok Ok Quindi adesso bisogna andare a parlare con Futaba Va bene Futaba si trova là Ok Eh volte che partecipi alla lezione di cucina per Zenkichi Cioè sarebbe sicuramente divertente ma Non sono quel tipo che si direbbe un palato fine Sono esigente infatti di Yoh 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 Andrà bene così Essendo così selettiva Potrai rappresentare al meglio il gusto di Akane E il modo in cui reagirà alla cucina di Zenkichi Yoh 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 Oh capisco dove vuoi arrivare Allora vuoi assegnare il caso alla giudice Futaba eh Non per vantare Ma è da tempo che sottopongo la cucina delle Blanca al mio giudizio Prometto sarò severa ma imparziale nel corso di questo processo Yoh 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 Listo Sei perfetta in questo ruolo Mi raccomando Se vuoi battere il martelletto Fallo senza esitare Ci puoi contare Allora da cosa inizieremo? Da un classico curry? No Haru ci insegnerà a preparare delle pietanze in stile O-Banzai Oh ne ho sentito parlare La cucina tipica di Kyoto Però Sarebbe un po' di sinispido Per una ragazzina delle medie Bisogna insegnargli a cucinare qualcosa che piaccia anche ai più giovani E sai a loro cosa piace mangiare? Curry e ramen Non accetto surrogati Oh beh Di sicuro ci sarà tempo per mostrare a Zenkichi come preparare quei piatti Deo Sarai in buone mani In tal caso dovrai darmi prova del tuo valore come istruttore Non ci sarà alcuna lezione per Zenkichi fin quando non avrai dimostrato che il tuo curry e il tuo ramen sono ad altezza Ok Sarà un'ottima occasione per rispolverare i miei lotti da giudice Ok Alle cousine Ho la sensazione che Futava voglio soltanto mangiare qualcuno dei tuoi piatti Ma se servirà ad aiutare a cane Insomma Doverai ottenere il marchio di qualità della giudice Futava per il tuo curry classico e per il tuo nuovo ramen Quindi nuova richiesta Fa vedere Vediamo Consegna curry di chioto ramen di miso Accettiamo Allora me ne torno al camper No Ho sbagliato Me ne torno al camper Vediamo se posso già cucinarli Ok Allora curry di chioto Manca la cipolla E ora la compriamo Negozio Ah guarda questo Quindi questo Cipolla Ok Mi facciamo uno Sì Ok E poi cos'è che voleva Aspetta Ramen di miso Vediamo Ramen di miso Vai Ok Rapporto Sì curry ramen Questa sì che è vita Quale giovane potrebbe mai resistere a un pasto tanto perfetto Impossibile non cedere al suo richiamo Ok sei entusiasta ma com'è il sapore Siamo qui per questo Giusto giusto Prova d'assaggio Oddio È incredibile Questo curry è epico Tanto quanto quello di Sojiro È ramen di miso in pieno stile Sapporo Sto avendo una visione Vedo gli infiniti cei dell'Okaido Il voto di entrambi è un 10 Tondo tondo Anzi 10 più più Ok Ora il mio palato è pronto a emettere i suoi giudizi La tua cucina Siamo andare ancora alla grande Siamo pronti per la lezione di Aru Beh fatemi convocare dalle mie stanze Quando sarà l'ora di cominciare Oracle della sacra scuola del Leblanc È pronto ad analizzare fino all'ultimo assaggio Ok E la palla in cucina Fai rapporto Bene allora Vogliamo cominciare la lezione? Zenkichi-san Ah ripeto Vogliamo cominciare la lezione? Oi Eh sì Sto io a presiedere questa prova d'assaggio Dovrei rivolgerti a me chiamandomi vostro onore E va bene Volevo dire vostro onore Oi oi Ehi queste due ci stanno prendendo gusto Sei ancora sicuro che sia una buona idea? Certo che sì Fatto di cucina sono due delle migliori consulenti della di fantasma Cerca soltanto di ignorare quanto sono brave Sì siamo d'accordo Solo che Ok ok Cerchiamo di stare al gioco per adesso Zenkichi-san è lavato le mani in maniera accurata Hai tagliato le unghie E perché non indossi il grembiule? La lezione anzi no La battaglia appena è iniziata E vedi di legare quei capelloni da macio Ci vuole rispetto in quest'aula Oh cavolo Altro che le ramanzine Le ramanzine del commissario Qui siamo proprio su un altro livello D'altro canto però Imparare qualcosa potrebbe essere utile Soprattutto se per a cane Sta a vedere piccola Tra non molto il tuo papà saprà prepararti il tuo piatto preferito Bene Bene Siamo saliti forse tantissimo Adesso vediamo E infatti 26 punti Così molto bene Allora che cavolo prendiamo Eh gli oggetti curativi li usiamo Quindi magari Aumentiamo il loro effetto Anche D1 va bene E poi Qua non si sa L'unica mossa che non abbiamo Aumentare gli attacchi speciali Direi di sì Ok perfetto Abbiamo massimizzato i danni Di attacchi speciali Che usiamo spesso Magia Forza Resistenza Influenza Difesa Qua Influenza Critici Evasioni Potenziamo un po' L'agilità Dai sì Ok un po' E basta Molto bene Molto bene Salviamo E adesso finalmente Dopo che abbiamo soddisfatto Queste richieste Erano un po' più elaborate Di quelle classiche Diciamo Possiamo andare Per la via principale Posso confermare Che questo è il punto D'ingresso più sicuro Per accedere alla prigione Perfetto Ora che abbiamo risolto La questione Possiamo ovviamente Infiltrarci nella prigione Di Konoe Facciamo venire tutti gli altri Iniziamo? Facciamolo Bene Sofia Telefona gli altri E falli venire qui Ricevuto E falli venire qui Sì, vabbiamo. Chissà com'è la sua prigione. È futuristica. Il c'è la sua prigione. È un bambino. È un bambino. È un bambino. Come andiamo. I'm going to get rid of the people. Andiamo a messi e our finalizare questo caso. Ok, che avevo in squadra? Aspetta, togliamo un attimo tutti, prendo quelli di livello più basso, 47, 48, eh sì dai prendo Han, va bene. Ah sì, poi ok, sta funzione diciamo l'ho un po' scoperta, cioè il gioco me l'ha detto ma io lì per lì non ho capito, cioè che della mia squadra volendo appunto posso cambiare le abilità. Ah, visto è una funzione nuova perché in Persona 5 non c'era, tipo magari possiamo togliergli l'attacco elettrico leggero a Ryuji e gli metto qualcos'altro. Per esempio Mazio, però elettrico leggero a un'ampia area, sono tutte le abilità che ha imparato, non saprei che mettergli però in effetti perché lui ha, da un elettrico medio, a medio ad area, medio di un'ampia area. Se no, che questo è leggero in un'ampia area, metto a fondo, vabbè dai li metto, metto a fondo dai a fondo, tanto alla fine userà sempre queste due, non è che usa altro. Ok, no, conferma sì, ok, quello l'ho fatto, esploriamo. Grazie a tutti. 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 Ma è che non è male In effetti Almeno mi faccio Mi faccio Mi faccio Mi faccio Mi faccio un po' la vita almeno Ah la Valkyria Beh Ho migliorato l'agilità Quindi in teoria La probabilità di Cricco Dovebbe essere aumentata A saperlo prima L'ho mai aumentata prima Prova Ok Aspetta Perché ci sono Non è diverso Non è diverso Ovviamente Combattiamo Contro tutti In attenzione Guardi qua si va Ma io combatto contro tutti A attoio ma da ne Si ma sugi Te ne mucano Showtai o misero Onore Però loro fanno male Loro fanno male Vabbè Di qua Ok Di là non si passa Qua è segnato Forse più avanti Andiamo di qua Dì c'è un'altra ombra Dobbiamo andare qui Però C'è un buff Adò Ok Ok Molto bene Molto bene Qua si può salire Esatto Ma qui si può andare avanti Fino a un certo punto Forse Ok Ok Infatti Fino a un certo punto Qua non c'è nulla No Non c'è neanche una vecchia Che attraversa la strada Questo Il Qua Ok 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 Eh, qui però c'è la metagliatrice. Ok, anche di lì ce n'è una. Qua ci sono delle ombre. Questo è fermo. Ok, ci sono delle ombre. Ok, ma qua non sono da nessuna parte. Scendo di qua. Altra metagliatrice. Vediamo, spero che non mi veda. E invece... Mi stava per vedere, vabbè. Ahia. Oh. Attenzione. Rialzati. Aspetta. Ok. Noi facciamo malissimo, ma anche loro. Non sto attento, non sono da meno. Facciamo così. E' meglio attaccarli essi. Con l'imboscata. Decisamente. Ok, lo speciale, ma... Aspetta un attimo, lo riserviamo per dopo. Ok, ho sconfitto tutti. Ok, l'abbiamo. Ok, l'abbiamo. E' meglio, l'abbiamo. Ok, ok. L'abbiamo. Ok, l'abbiamo. L'abbiamo a... L'abbiamo a... Andare tutti qua Zodi Giù oggi Questo Oh Eh io faccio lo speciale subito Pachiderma benevolo Ok ha tolto un parecchio Aspetta Ok E lui era debole Sì è vero Lo psico Però Ah resisteva al fisico Debole al fulmino Psico e maledizione Aspetta Ficcione Ahia Attenzione L'avevo preso Spero di sì Eh mi ha preso Aspetta 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 Facciamo così Prima che noi Cadiamo Dov'è che era? Qua Ok Eh purtroppo Non posso farla tornare Su Ann A tal proposito Attenzione Aspetta Aspetta L'atomico Avevo uno che forse Assorbiva l'atomico Forse Vediamo Devo ricordare Invece forse no Allora tengo Questo In caso mi prenda Aspetta 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 Ok Ok Aspetta Intanto Hanna, i punti esperienze li ha presi lo stesso. Ma che cavolo! Com'è? A posto? No, chi manca? Ok. Ok, diceva, ma c'è un'altra ombra. Porca vacca. Ok. Cosa usiamo qua? Usiamo... Aspetta, questo. Ah, lo speciale, però aspetta un attimo. E' rimasto solo lui. Aspetta un attimo. Ok. Fatemi vedere una cosa. Negli oggetti... Eh, cartabilità. Fammi vedere... Se per caso ho... No, è vita sacro. No, non ce l'ho, Ray Karm. Vabbè. E se no... E se no devo andare nella stanza di velluto, in effetti. In effetti. E poi lo faccio, dai. Ah, perché... Non pensavo, ma in effetti... E' utile che ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo anche noi. Vabbè, comunque... Allora, di qua non possiamo andare. Qua si può andare su. Ok. No, scusate, ho superato. Tasto. Ok. C'è un checkpoint. Non c'è niente. Qui abbiamo... Ok, delle ombre. Facciamo così. Aspetta. Ok. Allora. Ah, lui è salito di livello. Potenza e elettricità. Direi che lo metto... Al posto di... Meno pesante, grave... Al posto di questo. Ok, questo, sì. Allora, andiamo... Vabbè. Poi, muoviti lungo il muro. Dov'è? Qua? Qua giù. Ok. Allora, io fado... Stanza di velluto. Evoco... Ce l'aveva? Ce l'aveva? Ehm... Aspetta, adesso lo trovo. Questo, Mitras. Esatto. Esatto, lui. Lo evoco. Ah, esatto, è piena. Allora... Aspetta. Anzi, registra. Allora, aspetta. Sì. Sì. No. Allora... Naga... Non mi interessa. Neko Shogun... Non mi interessa. Anche questa non mi interessa. Questo, men che meno. Lei assolbe psico. Maledizione. Ok. La luce. Fuoco. E set. Il vento. Va bene. No, crea evoca. Venuto in mente adesso, in effetti. Devo fare così. Sì, sono sicuro. Ok. Così, almeno, non ho praticamente perso niente. Come non essi perso niente. Qua... Oh, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Questo, ok. Questo lo voglio. Assorbe il fulmine. Se fosse stato il re dei serpenti, sarebbe stato meglio. Ah, però devo sacrificare lui. Lui assorbiva la maledizione. Vabbè, che posso comunque fare come ho fatto adesso, in effetti. Lui non mi interessa. Ce l'avevo già, però fa niente. Lui posso... Vabbè, posso fondere. Fondiamo, fondiamo. Tutti i soldi non sono un problema. Dunque, io direi... Facciamo ereditare questo. Ah, stoicismo posso mettergli, sì. Ma raffica... Eh, non saprei che mettergli. Attacco in picchiata... Fisico pesante, pesante... Tanto questi qua non li uso, sicuro. Eh... Sì, dai, gli metto attacco in picchiata. Danno fisico pesante ad aria, però... Ah, in un'ampia aria, questo è meglio. Allora, colpo fulmineo. Sono sicuro. Ok. Oh, benissimo. Ok. Adesso che lui assorbe il fulmine... Posso sacrificare l'altro. Però vediamo chi posso creare, giusto per curiosità. Ah, posso ricreare lui, ma non ha le stesse abilità che aveva prima. Vabbè che alla fine mi vendrebbe anche ben uguale. 28.000... Eh, fammi vedere... Vediamo per... Vediamo per... No, dovrei evocarlo... 23.000 per... Conviene evocarlo. Beh, conviene evocarlo... Eh, lo evoco... Lo evoco... Ok. Adesso... Adesso... Mi ha posto... Miglioriamo chi? Lui no, sicuro. Lei no, sicuro. Questo possiamo sacrificarlo, perché tanto abbiamo l'altro che assorbe il fulmine. Mothman... Mothman... Ok. Questo no. Set... Potremmo... Sì. Facciamo di due. Questo... Ma vediamo come va, ma penso che... A meno che... Appunto, non mi servirà per una fusione forte, non penso... Di sacrificarla... Va ancora... Stile KO, cos'è? Lui c'è notamente la barra KO... Di un nemico infiggendo danno critico... Io direi che lo posso anche mettere... È ma al posto di questo, magari... Sì. Ok. Mitras, va bene così... Mit... Sì, Mitras... Questa la potenziamo... Sì, direi che lo facciamo... Aspetta, facciamo... Sì, tre... Facciamo di... Di cinque... No, di... No, con due prende maziodine, maziodine, sì... Con tre qualcos'altro, vediamo... Ok... Evita vento... Perché non è debole al vento... Vabbè... Ah, tuono prorompente... Eh, questo era forte... Se è quello che... Che penso io... Comunque... Ehm... Evita vento... Ok... Ehm... Magari gli insegno qualcosa... Magari gli insegno qualcosa... Di utile... Eh... Ok... Conferma... Vediamo se riesco a non penso... Eh no... Aspetto... Di seri ultimamente di livello... Questo... Potrei potenziarlo... Sì... Di due... Ok... Ok... Non impara più nulla... Va bene... Va bene... Ci siamo... La squadra ce l'abbiamo... Registriamo... Ok... Sì... Perfetto... Perfetto... Ok... Salvo... Fatemi vedere un attimo... Gli oggetti... Qua è il menu... Eh... Perché abbiamo... Inizia sonno... E abbiamo evita sacro... Annulla furia sonno... Ma per ora nulla di che... Resiste a fuoco... Ah ecco... Magari resiste sacro... Ah... Resiste... Possiamo... Togliergli la debolezza... Della maledizione... E renderla una forza... C'è una forza... Ma è l'esistenza... Sì... Perché queste sono quelle interessanti... Resiste maledizione... Sacro... Ghiaccio fuoco... Io potrei... Il segno evita sacro... Sì dai... Quella... Quella mi ispira come persona... Quindi facciamo... Resiste la maledizione... A... Dove sei... Qua... Ehm... Ok... Però devo... Sì... Devo fargli dimenticare qualcosa... Tipo evitavento... Non ha senso... Però... Però... Aspetta... Magari... Posso togliergli questo... Che tanto non lo userò mai... Quindi... Sì... Ah... Ok... Ok... Eh... Avendo la debolezza... Ho capito... In realtà non è che resiste adesso... Mi sa... Fa vedere... Cioè... Io ho annullato la debolezza e basta... Non ha la resistenza... Vediamo... Eh sì... Esatto... Va bene... Va bene uguale... Non ha debolezze comunque... Il che è ottimo... Va bene... Esatto... Esatto... Eh già... Comunque non lo so... Secondo me c'è qualcosa di più... Mi sembra troppo semplice... Come spiegazione... In generale... Perché comunque... Come abbiamo potuto vedere... Nulla è... Come sembra... Quindi... Ok... Che è sto... Ah c'è uomo serpente... Non l'avevo notato... Abbiamo lo speciale però... Aspetta... Deve passarmi l'amnesia... Ok... Ammazza... Ok... Questo... Cos'è debole... Sta persona... Ah nulla al fulmine... Debole al vento... E allora... Ecco... Bordello... Come al solito... Aspetta... Aspetta... Ok... Abbiamo... Media... Ah già che lo speciale è lui... Lo facciamo... Eh... Tanto gli speciali non valgono... A parte che non usa il fulmine... Ok... Ok... Dato... Perfetto... Potenze in fiamme... Direi che glielo metto... Questa sì... L'avevo... Non mi ricordo... L'avevo tolta questa... Poi l'ho rimessa... Vabbè... Comunque... Ehm... Togliamo di questa... Potenza in fiamme... Direi che va bene... Che c'è... Madonna... Facciamo così... Ok... Ok... Ah... Ah... Ci sono anche questi... Questi qua... Sono deboli al fulmine... Quindi... Fettiamo... Ahia... Ah... Bucca... Ok... 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 C'è un altro... C'è un altro... Aspetta... Ce n'è un altro... Ok... Qua si va... Non so dove... Eh... Non riesco a... Prenderò le spalle questo... Ma... Ma scusa... Vabbè... Aspetta... Abbiamo persona... Eh... Mettiamo magari lui... Aia... Eh... Porca vacca... Lui non usa i missili... Facciamo centro perfetto... Ok... Ecco... Ok... Quiet... E... Ok... Nuo livello... Allora, si va da sopra, qua è bloccato. Posto. Posto, lì c'è un altro cagnolino. Che vacca, aspetta, aspetta. Vini qua, vini qua. Porca di quella vacca. Oh. Allora. Non mi vedo. Non mi vedo. Attenzione. Aspetta. Devo curare. Eh, niente. Sono morto. È solo che loro non possono portarmi in vita, quindi... Aspetta. Caracca. Allora, ha finito? Beh. Oh. Ok. Ok. Caracca, uno dietro l'altro, eh. c'è. Ah, aspetta. Ho lo speciale, ma io uso quello... E ho il suo, mi conviene secondo me. Ho questo. Facciamo questo. Aspetta. Aspetta. Aspetta, quanti sono rimasti? Vabbè, non molti, dai. Beh, ahia. Ahia. Allora. Beh, posto. Posto. Aspettiamo un attimo. C'è uno scrigno. Beh, un po' da vendere. Ok, devo andare... Qua. È bloccato. Ah, ok. Vabbè, aspetta. Sì. Facciamo così. Beh. Va bene. Le ho messo l'ultima armatura più forte, eh. Aspetta, questo è un cagnolini. Ah, poi c'è questo. Aspetta un attimo. Abbiamo lo speciale, quindi... Ok. Adesso, direi. Ottimo. Piazza pulita, mi sa. Esatto. Esatto. Eh, dov'è? Allora. Ok. Ok. Ok, aspettiamo. Incredibile. Ok. C'è nessuno. Allora. Sì, comunque li tolgono tanto, comunque. Eh, che... Eh, che proprio li tolgono poco. Ah, questi assorbono il fulmine, quindi andiamo di vento. Allora. Dai, siamo al 50%. No, no, non mi distraete, per favore. aspetta. Allora, ci vi è venuto truffidan sempre più po' counterlevozzi questo ruoto. Allora... Sepio! aspetta! Non vedo, ma... Tipisco a vuoto! aspetta. Aspetta... Con questo, no, facciamo questo, che che, ah Fox, vai, vai, vai. Pazza pulita? Quasi. Aspetta, posso usare ancora uno, esatto. 50%, 56%, 57%, 59%, ok. Sì, ma se non le mettevo l'armatura che le ho messo moriva subito, non so. Aspetta, qua non possiamo passare. Dove è? Guarda, di là. No, mi sono un attimo perso, aspetta. Di qua siamo venuti. No, dove indica? Dobbiamo tornare indietro, forse. Ah, no, aspetta. Ci sono... No, ci sono delle scale, aspetta. Ah, eh, sì, infatti, allora, ma che cavolo, non le avevo viste. Ah, no, non le avevo viste. Ah, no, non le avevo viste. Ah, no, non le avevo viste. Sono un'altra cosa. Sì, è l'altra cosa. Ah, no, non le avevo viste. Ah, no, non le avevo viste. Ah, no, non le avevo viste. Ma, no, non le avevo viste. Ma, non le avevo viste. E infatti, guarda qui. No, non le avevo viste. Allora, questi... Ok Nuovo livello Volevo speciale Aspetta però c'è poca gente C'è poca gente Teniamolo per dopo Ok Molto bene Eh, qui ce n'è un altro Adesso lo facciamo Vediamo se arriva qualcun altro Ok Sì, vai, vai, facciamo Ok Ma c'era anche lui lo speciale Grande Aspetta un attimo Eccolo lì Questa è la mia Questa è la mia C'è la mia Questa è la mia Questa è la mia Ehm, aggiriamole Eh, se si può Ok Ma Sì, di qui non si passa Ah, là in fondo ce n'è una Forte Eh, io vorrei fare l'imboscata Su questa, però Vai Facciamolo A posto Nuovo livello Ok Stiamo praticamente livellando Ci sono C'è un checkpoint E non c'è nessuna cosa per far l'imboscata Attacco prima io allora Eh, la Valkyrie è gigante La Valkyrie è la debole a cosa? Il fuoco Non ce l'ho io il fuoco Ah, non si ce l'ho Aia Ah, mi ho schivato Vai A lo speciale Ok Madonna Madonna Ok Molto bene Mi ha dato anche una polvere d'anima Ok Ce ne ho Un altro Aspetto Salto Teniamo Questo Ah, ma sono Ah, sono in due No, ho un po' di più di due Però vabbè Ok Qui non si passa Andar di qua Ok Benissimo Checkpoint Va bene Fa vedere Eh Adesso Io direi che metto Eh, al posto di chi Devo mettere Haru Però Ryuji mi è utile Anche Ah Mi è utile Yusuke però Beh dai Al posto di Yusuke Anche se è al 50 C'è così Ok Ah, sì A vedere Eh Cosa avrà imparato Fa vedere Forse Mapsio Secondo me Sì Medio Un'ampia area Ok Medio ad area Va bene Ok 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 Grazie a tutti.